Buona visione! Buona serata, una serata straordinaria a sorpresa, quindi nemmeno io immaginavo questa sera di essere qui. Carmelo non lo sapeva, non lo sapeva nessuno, proprio improvvisazione totale. Perché? Perché Gabriele è riuscito ad avere proprio questa mattina da un collezionista un affidamento di 23 opere, una collezione di 23 opere, tra le quali c'è forse uno dei mambor più importanti che abbia avuto la gioia di potervi presentare, quest'isola che non c'è. Questa, prendiamo proprio il titolo da una canzone famosa, quest'opera che segna il ritorno alla pittura dopo tanti anni di teatro e è l'espressione totale della ideologia di mambor. Un metro e venti per un metro e sessanta un'opera, voi sapete quando vi parlo di mambor vi parlo di quell'artista che raggiungerà le cifre più alte sul mercato internazionale che abbia mai raggiunto un artista italiano. Questo ve lo dico proprio francamente. Quindi investire su un mambor è fondamentale e quando avete a disposizione un'opera di mambor così concettuale, così appascinante, storicamente così importante, che segna proprio il ritorno la pittura di quest'artista dopo vent'anni di teatro, è un'opera epocale, letteralmente epocale. Noi dovremmo chiedere 40-50 mila euro, ma oggi, questa sera, vedete il mio entusiasmo, ho visto l'opera di mambor e ho cominciato a parlarvi subito dell'opera di mambor, senza dirvi quello che sta accadendo stasera, perché Gabriele ha avuto l'affidamento di queste 23 opere, vi ho fatto vedere la prima di corsa, che possono andare in gara al maggior offerente. Voi questa sera, delle 23 opere che vi farò vedere tra pochi istanti, potete partecipare all'asta al maggior offerente. Unica difesa del committente, i tre concorrenti diversi per entrare in gara, perché naturalmente non essendoci prezzi di riserva, non essendoci nessun prezzo di arrivo. L'unica garanzia che devo dare al committente è che troviamo tre clienti, tre amici, assolutamente diversi. Infatti il nostro centralino stasera sono più numerosi del solito, perché dovranno fare più controlli del solito. Perché? Perché i tre concorrenti devono essere diversi, perché l'opera entri in gara. Cosa significa diversi? È che se tu mi fai un'offerta, una seconda offerta me la fa tua moglie e la terza offerta me la fa tua suocera, non sono tre concorrenti diversi. Quindi il centralino stasera sarà un pochino pignolo, perché controllerà che le offerte provengano da amici, gruppi familiari diversi. Questa è l'unica difesa. Dato che abbiamo poco tempo e le opere sono 23 e vorrei aggiudicarle tutte, ve le faccio vedere subito, molto velocemente e vi do quelli che sono i prezzi che noi vi abbiamo chiesto normalmente. Poi entrano in gara, appena un'opera avrà tre offerte differenti di provenienza diversa, entrerà in gara. La prima opera, la numero uno, la adoro, è un'opera di uno degli artisti della nuova figurazione più affascinanti che esistano, di Pietro Cesarini Sforza. Questo è dalla mitica vocazione di Matteo, dal mitico Caravaggio della cappella Contarelli a San Luigi dei Francesi, uno dei quadri che mi ha emozionato da bambino quando mio padre mi portava a visitare San Luigi dei Francesi e uno dei quadri che mi ha spinto a studiare la pittura antica. L'opera è strepitosa, un metro e venti per un metro, costa 8 mila euro, 8 mila euro. Le opere di Pietro Cesarini sforza meno di 7 mila, 8 mila, 9 mila, 10 mila non escono dallo studio dell'artista. È in gara libera, è in gara libera. Olio su tela, 120 per un metro. Numero due, un piccolo gioiello di Faraoni, di Enzo Faraoni, agli e cipolle, una opera deliziosa, 23 per 46, 900 euro il prezzo, gara libera, per il gioiello di Faraoni. Poi un artista che sta ottenendo grossi consensi e che sta diventando un punto di riferimento dell'arte astratta contemporanea. Uno dei mitici episodi di Silvio Formichetti, è un olio su tela 70%, cosa? Vai da Formichetti, ti chiede 2005, ti chiede 2005, 3000, opera preziosa. Poi al numero 4 c'è un trittico meraviglioso di Antonio Murgia, la mitica Lady B. Quest'opera è pubblicata sul libro che è stato dedicato ad Antonio Murgia in occasione della mostra durante la Biennale di Venezia all'isola di San Servolo. L'opera è meravigliosa, vedete realizzata su una superficie specchiante, un metro e venti per un metro e trenta, Murgia vi chiede minimo, minimo, minimo 5 mila euro. Minimo vi chiede 5 mila euro. L'artista, gara libera, gara libera. E poi uno dei grandi della cultura internazionale, uno dei grandi misteriosi della cultura internazionale, esattamente come Bansky. Questo è Felipe Cardena che ci presenta questo Jimi Hendrix, che ve lo ricordate, Woodstock, quindi i grandi concerti. Da Woodstock lui suonò addirittura l'inno americano, proprio grandissimo chitarrista. E poi vi ricordate i grandi musicisti, grandi artisti che scompaiono a 27 anni? Sono tanti, tra questi Jimi Hendrix. Io ricordo un pittore, Jean-Michel Basquiat, ricordate, opera preziosa, meravigliosa, colta, affascinante di Felipe Cardena, un metro per un metro, meno di 4 mila euro, non la compri da nessuna parte del mondo, meno di 4 mila euro, non la compri da nessuna parte del mondo. Cominciate a fare le vostre offerte per il Murgia, per il Felipe Cardena, il Formichetti, il Faraoni, l'opera di Pietro Cesarni Sforza. Al numero 6 c'è uno dei grandi investimenti da fare oggi, un pezzo unico del mitico TV Boy, con la mitica banana offerta e venduta a 150 mila dollari e poi mangiata. Quindi uno degli episodi di cronaca contemporanea più clamorosi legati all'arte. TV Boy è un nastro nascente della pittura internazionale e questo è un pezzo unico, 107 per 79, pezzo unico di TV Boy, 107 per 79, minimo, minimo, minimo 3 mila euro. Ma potete voi questa sera, cominciate a telefonare, cominciate a telefonare perché potete fare le offerte che volete, potete fare le offerte che vi vengono in mente. Con tre offerte le opere entrano in gara e quindi mai come questa sera avete possibilità d'acquisto straordinarie. Numero 7, due opere, numero numero 7, numero 8, due gioielli del 77 di Gualtiero Nativi, sono due tecniche miste di grande qualità, di grande bellezza di Gualtiero Nativi e oltretutto sono tutte e due degli anni 70, 30 per 24, calcolarle 1500 euro ciascuna significa chiedere nulla. Le vostre proposte, le vostre proposte, le vostre proposte, un legno prezioso in bianco e nero 50 per 35 di Ugo Nespolo, 4 mila euro parte da zero. Fate voi le vostre proposte. Amici, mi preoccupate perché non sento ancora, devo sentire squillare i telefoni di corsa, perché tutto parte da zero, tutto parte da zero, dovete fare le vostre proposte. Questo è il numero 9. Al numero 10, clamoroso, Salvatore Emblema, addirittura un fiore del Vesuvio su tela di tessuta del 1995, Salvatore Emblema, un metro e dieci per un metro, la proposta che noi vi abbiamo sempre fatto è 14.700 euro, una delle opere più rare, una delle opere più belle di Salvatore Emblema. Offerte libere, con tre offerte entra in gara. Mario Schifano, paesaggio anemico rivisitato, opera preziosa di Mario Schifano pubblicata, pubblicata, è un 70% di Mario Schifano, costano 7, 8, 9 mila euro, opera meravigliosa. E poi guarda che gioiello di Franco Angeli, 60 per 80, opera autografa, opera preziosa, opera importante di Franco Angeli. Quando ieri volevo farvi un super regalo, questo quadro che l'ho presentato nella trasmissione di ieri, vi ho chiesto 3, 9, regalato. Oggi va in offerta libera. Oggi va in offerta libera. Come va in offerta libera il grandioso quadro di Mambor, del quale vi ho già parlato in apertura di serata? Opera che ha 40.000 euro è regalata. 1989 è il ritorno alla pittura di Renato Mambor. 1989, 120 per 160 di Renato Mambor. Tocca a voi fare le vostre proposte. Mi raccomando, gara libera per tutte le opere. Giannis Cunellis, con la citazione della mitica mostra all'Attico, un'opera del 1982, una tecnica mista 31 per 24 di Giannis Cunellis, vi abbiamo sempre chiesto 5.000 euro. Gioiello di Giannis Cunellis Storico, del quale potrei parlare per ore, 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 ore. E poi un altro astro nascente della pittura che fa riferimento ad uno dei dipinti mitici della storia dell'arte. Lei, l'opera preziosa, meravigliosa che ha iniziato con Antonello da Messina, la grande rivoluzione rinascimentale. L'opera è di Mauro Drudi, 120 per cento, è emozionante, è letteralmente un'opera meravigliosa. Non esce dallo studio di Drudi un'opera del genere a meno di 5.000 euro. Poi sono tutti quegli artisti che stanno diventando importanti a livello internazionale. Mauro Drudi, lei, 120 per cento. E poi uno dei quadri che io adoro, questo è un artista uguguaiano, il più grande pittore del metropolismo. Se chiedete da Achille Bonito Oliva, lo considera uno dei più grandi pittori della storia moderna. Scomparso pochi mesi fa, grandissimo artista ugugaggio. Il metropolismo è la prosecuzione naturale della transavanguardia ed è il movimento più importante sul piano culturale oggi. Questa è un'opera di Carlos Grippo, meravigliosa, 80 per cento. Sono quadri introvabili, sono quadri che trovate a New York dai grandi galleristi, dai grandi mercanti e vi chiedono 8.000, 10.000, 15.000 dollari. Opera preziosa di Carlos Grippo in gara libera. In gara libera. Poi guarda questa presenza preziosa di Alessandro Gabbia, una delle opere figurative più emozionali di Alessandro Gabbia. Un disegno storico piccolino ma di qualità eccezionale di Nino Tirinnanzi. E poi al numero 19, per chi ama la pittura concettuale, c'è un'opera preziosissima di Pino Pinelli, 60 per 85. Qui chiedono sempre 2000, 2005 e in 50 esemplari, una delle opere più rare, una delle opere più belle di Pino Pinelli. Poi di Giuseppe Biasio, Universi Diversi, 66 per 61, pubblicata sul libro ufficiale della Biennale Veneziana. Opera originale di Giuseppe Biasio, pubblicata sul libro prezioso, originale, poi ve lo farò vedere, della Biennale Veneziana. Questa è un'opera da 7 mila euro, 8 mila euro, che va in gara libera. Uno dei meravigliosi paesaggi pugliesi, questa veduta del Salento, 50 per 70 di Michele Carpignano, è al numero 21, un'opera storica di Fabrizio Tedeschi, 60 per 80, al numero 22. Tedeschi sta diventando un punto di riferimento mondiale. Questo è un totem primigenio e chiudo con il superquadro, l'opera della memoria, l'opera più affascinante della storia di Annu Palosuo, un'opera di un metro e venti per 80, della quale quando vi chiediamo 6 mila euro vi chiediamo nulla. 23 gioielli, 23 gioielli, una collezione straordinaria, Annu Palosuo, Tedeschi, Carpignano, Biasio, Pino Pinelli, Tirinnanzi, quella preziosa opera di Gabbia, Carlos Grippo, Mauro Drudi, un'opera eccezionale di Cunellis, il Mambo grandioso, l'opera di Mambo grandiosa, l'opera di Franco Angeli, un paesaggio anemico rivisitato di qualità fantastica di Mario Schifano, il più bello dei quadri di emblema che vi abbia mai fatto vedere, un'opera di Nespolo preziosa, due gioielli, due studi di nativi, l'opera fondamentale di TV Boy, di grande attualità, quel gioiello, quel meraviglioso gioiello di Felipe Cardena, quindi Antonio Murgia, quadro enorme, meraviglioso pubblicato, Silvio Formichetti, Enzo Faraoni e quell'opera importantissima di Pietro Cesarini Sforza. Amici, cominciamo con le vostre proposte, vedo che al centralino ci sono tante telefonate, quindi cominciamo a sentire quelle che sono le vostre proposte sulle opere che vi ho fatto vedere. Dimmi tutto, dimmi tutto, dimmi tutto, dimmi tutto. Naturalmente per entrare in gara bisogna che le opere abbiano almeno tre offerte diverse. Per ora abbiamo una serie di prime offerte, te le dico, allora 400 Euro per il Cesarini al numero uno. Allora, il gioiello di Cesarini che costa 8 mila Euro, abbiamo la prima proposta di 400 Euro, fate voi, olio 120%. Vai, questa è la prima proposta per il Cesarini. Poi abbiamo 200 Euro per il Formichetti al numero 3. Ah, proprio generose le prime proposte. è 200 Euro per l'opera di Formichetti. Poi, Felipe Cardena al numero 5, siamo a 300 Euro. 300 Euro per il Felipe Cardena al numero 5, che è un 100%. 500 Euro per TV Boy al numero 6. Oh, TV Boy, pezzo unico, 500 Euro. Poi per il numero 8 di Nativi, 200 Euro. 200 Euro per il numero 8 di Nativi. Poi, Nespolo al numero 9, 700 Euro. Oh, 700 Euro per l'opera di Ugo Nespolo. Poi è arrivata un'offerta per Angeli al numero 12, 1.500. 1.500 Euro per l'opera di Angeli al numero 12. Poi, tieniti forte, ma la prima offerta, 4.000 Euro per le Mambor al numero 13. No, io me la prendo con Carmelo. Tanto è l'unico che sta qui, quindi che devo fare? Mi devo sfogare su Carmelo. dai, Mambor 4.000 Euro, mamma mia, non 40.000, 4.000, 120% per 160 dell'89. Come vedete, le prime offerte sono clamorosamente piccole, sono clamorosamente modeste. Poi, vediamo, Gabri. Sì, un secondo, perché abbiamo offerte che si accavallano. Allora, 14 Cunellis, 800 Euro. 800 Euro per l'opera di Cunellis, venne chieste almeno 5.000. Sì, vado velocissimo, perché stanno arrivando offerte, quindi quelle che ti dirò probabilmente non sono già neanche più attuali. Comunque, Drudi, 400 Euro al numero 15. 400? 400, sì. Sì? Tirinnanzi, 100 Euro, pensa te, al numero 18. Tirinnanzi, 100 Euro, quel disegnino delizioso di Tirinnanzi. Poi, Pinelli, 300 Euro al numero 19. 300 Euro per il Pino Pinelli. Biasio, numero 20, 400 Euro. 400 Euro per Biasio. E Palosuo, numero 23, 500 Euro. Però, aspetta, perché adesso vado a leggere tutti i messaggi, siamo indietro di una dozzina. 500 Euro per il Palosuo. Bene, amici, come vedete le prime offerte sono, non le voglio nemmeno commentare, perché è chiaro che sono interlocutorie, sono le prime offerte. Voglio vedere quale sarà la prima opera sulla quale arriveremo alla terza offerta e quindi possiamo aprire la gara, possiamo aprire l'asta. Se volete rivedere delle opere, chiedetemelo immediatamente, c'è quell'opera al numero 1 di Pietro Cesarini Sforza, vuole 8.000 Euro lui per un quadro. E' uno degli artisti della nuova figurazione più affascinanti che esistono. Un'opera che è un'interpretazione moderna della vocazione di Motteo di Caravaggio dalla Cappella Contarelli a San Luigi dei Francesi. Un quadro che è meraviglioso e vi dico la verità, un artista straordinario che vende in tutto il mondo. Quando per un'opera del genere ho una prima offerta di 400 Euro è ridicola, però voglio sentire voi, è tutta la serata che si pone a vostro vantaggio in maniera clamorosa, ma l'importante è arrivare alla terza offerta e leggere le vostre proposte. Allora, rivediamo tutto. Il Cesarini a vostra disposizione, poi il Faraoni, deliziosa, importante, 70%, quell'olio di formichetti al numero 3. Praticamente c'è un'offerta di 200 Euro, fate voi. Poi sul Murgia enorme, pubblicato in occasione della mostra durante la Biennale di Venezia, opera pubblicata, un metro e venti per un metro e trenta, ancora non ho offerte. C'è un'offerta ridicola per quello splendido Jimi Hendrix di Felipe Gardena, un'opera 100% letteralmente meravigliosa, letteralmente straordinaria. Poi il TV Boy, pezzo unico di TV Boy, sapete che oggi tutto il mondo vogliono Bansky e TV Boy e li pagano cifre importantissime. Qui abbiamo addirittura una prima offerta di 500 Euro. Poi le due opere preziose di Gualtiero Nativi. Dai, veloci, veloci, veloci. Voglio tante, tante... Eccoci, abbiamo qualche aggiornamento, ricordiamo una cosa Franco, nella modalità asta non è possibile rimandare indietro, eccetera, eccetera. No, 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 quello che comprate è vostro, quello che comprate è vostro, perché lo togliete a chi fa l'offerta precedente, quindi quello che comprate, quello che offrite è vostro. Esatto. Allora, seconda offerta per Felipe Gardena siamo a 500 Euro. 500 Euro seconda offerta per Felipe Gardena. Seconda offerta per Nespolo siamo a 1000 Euro. 1000 Euro per Nespolo. 1000 Euro per lo Schifano al numero 11. 1000 Euro al numero 11 per Mario Schifano. 6.000 per Mambor, seconda offerta. Seconda offerta per Mambor, 6.000 Euro. Deve arrivare a 40, eh. Siamo a 500 Euro per Biasio. 500 Euro per Biasio, seconda offerta. E 1000 per Palosuo. Per Palosuo quanto? 1000. 1000, seconda offerta. Allora, amici, ci sono diverse opere in seconda offerta che con la terza offerta diventano vostre. Che con la terza offerta diventano vostre. Quindi possiamo cominciare la gara a partire dalla terza offerta. Io, ditemi voi dove volete cominciare, c'è il Palosuo che è strepitoso, Mambor non ne parlo nemmeno, ci sono delle opere letteralmente straordinarie. Siete voi che mi dovete dire, appena arriva la terza offerta su una delle opere, dimmi tesoro. Siamo alla terza offerta per Mambor. Ai, 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 ai. Terza offerta per Mambor che arriva a? 8.000. 8.000 Euro. 8.000 Euro e il Mambor è in gara. E l'opera di Renato Mambor, 120 per 160 del 1989, è in gara. L'isola che non c'è. Il punto di riferimento di Mambor... Franco, siamo ampiamente in gara, per Mambor siamo a 10.000 Euro. 10.000 Euro per Mambor è vostro, è vostro, ma deve arrivare a 40.000, l'opera che dopo 20 anni di teatro, lui quasi 20 anni, perché lui comincia il teatro nel 71, poi devo dire gli ultimi spettacoli sono della fine degli anni 80, dell'89, poi ritorno alla pittura, ma immediatamente sta male, si deve operare al cuore e questo è il primo quadro del ritorno alla pittura, al quale lui dedica tutta la sua tematica, tutto il suo pensiero, perché la luce del fago nell'isola dove si custodisce il segreto dell'individualità, nel marasma, nel contesto della globalizzazione che segna la perdita dell'identità individuale, questo è il quadro principe, è il quadro fondamentale, tant'è vero che finirai in uno dei grandi musei del mondo, per interpretare il pensiero di Mambor, siamo a 12.000, mi comunica adesso Gabriele, ma è zero, un Mambor così, chiedervi 40, 50 mila, significa regalarlo, significa regalarlo, siamo a 12.000 euro ed è vostro, certo, 13? No, non lo sai ancora, non lo so Gabriele, io vorrei un 20.000, vorrei un 30.000, vorrei un 35.000, vorrei tante, tante, quando parliamo di 12, 13, 15, 18.000 euro per Mambor, parliamo di un quadretto 20 per 30, storicamente inesistente, qui parliamo di uno dei punti di riferimento della storia della pittura di Renato Mambor del 1989, quindi mamma mia, siamo a 12.000 euro, il dirà parla, mi dice 30.000? Sì, e poi volevo dire anche l'opera numero 4, abbiamo una prima offerta di 1.000 euro per Murgia. 1.000 euro per il grande quadro di Murgia, prima offerta, amici qui siamo a 12.000 euro, qui siamo a 12.000 euro, guardate, io devo vendervi 23 opere stasera, quindi non è che posso aspettare, 12.000 euro per la prima, 12.000, mi dicono di aspettare un attimo, ci sono mille cose, ci sono mille cose, però fate presto, perché il tempo è poco, il tempo è poco, il tempo è poco e poi devo aggiudicare. Siamo a 14.000 per Mambor, 14.000 per l'opera di Renato Mambor, 14.000 per la straordinaria opera di Renato Mambor, 14.000, ma scusatemi, un'opera di Murgia così, 120 per 130, 1.000 euro, ma che è un prezzo, pubblicata in occasione della mostra alla Biennale di Venezia, opera pubblicata, adesso ve lo faccio vedere, 1.000 euro, ma dai, uno si arrabbia anche un pochino, soprattutto gli artisti. Elvira, parla al microfono che ti deve sentire tutto il mondo. Va bene, allora siamo a 16.000 per il Mambor. 16.000 per l'opera di Renato Mambor, meravigliosa. Dai, 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 presto, 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 iperveloci. Sì, lo Schifano, l'Angeli, il Cunellis, quell'opera strepitosa. Siamo a 17.000 per Mambor. 17.000, 17.000 per la prima, ho anche il martello, Carmelo devi stare molto attento, devi essere pronto ad evitare, perché questa sera mi fanno arrabbiare. 17.000 per il Mambor, 17.000 per la prima, 17.000 per la seconda, chi lo perde, chi lo perde, chi lo perde, via! Telefonate, 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 so che ci sono tanti messaggi, ma telefonate! Permurgia, fatemi 5.000, è pubblicato in occasione della mostra durante la Biennale di Venezia, me lo prendi il libro, guarda, è lì, guarda, è lì. E' lì, è lì, è lì, dove è segnato? Eccolo qui, questo è il libro uscito per la mostra durante la Biennale di Venezia a San Servolo, e vedete l'opera pubblicata in piena pagina, l'opera di Murgia pubblicata in piena pagina, opera meravigliosa, il TV Boy, questo è un pezzo di storia contemporanea, questo... Allora, ti dico qualcos'altro, intanto chiedo scusa ai nostri amici, uno perché siamo frettolosi al centradino, ma qua succede un po' di tutto, è normale che sia così. Dimmi tutto, dimmi tutto, dimmi tutto. Allora, per Murgia sono arrivate due offerte, quella da 1.100 e quella da 1.200 che l'ha fatta entrare in gara, quindi Murgia è già in gara, offerta più alta a 1.200 euro. 1.200 l'opera di Murgia è in gara, ma siamo non bassi, bassissimi per l'opera di Mario Schifano, perché siamo a 1.500 euro, figurati, ne vale 4-5 volte tanto. Poi, Drudi, numero 15, siamo a 700 euro. Drudi, 700 euro. E poi ci sono i 17 per l'opera di Mambor, chiedo scusa a chi aveva chiamato, perché avevano detto 2.000 in 2.000, ma poi tu, superata la soglia dei 16, hai fatto la deroga che si può andare di 1.000 in 1.000. Sì, ma fate anche 10.000 in più, questa è la cosa importante. Allora, per il Mambor siamo a 17.000, giusto Gabriele? 17.000 per l'opera di Mambor. Io devo passare all'aggiudicazione, io devo passare un momento, vedo tante telefonate, attenzione perché il Mambor, o poi una volta aggiudicata l'opera, non c'è più niente da fare, dopo non mi potete dire, guarda me ne trovi un altro, no, io ti offro 20.000, io ti offro 22, io ti offro 25. Questo lo potete fare adesso, ma appena io pronuncio il termine aggiudicato, non c'è più nulla da fare. Rivediamo quella strepitosa opera di Mambor dell'89? Rileggiamo quella straordinaria opera di Mambor del 1989? 17.000 per la prima, 17.000 per la seconda, ci sono tre telefoni occupati. TV Boy siamo a zero, TV Boy siamo a 500 euro. 600 euro per TV Boy, seconda offerta, con la terza offerta entra in gara. Allora, non aggiudico ancora, chiedo scusa perché ci sono tutti i telefoni occupati, quindi non posso aggiudicare il Mambor. 17.000 per la prima, hai delle offerte, 17.000, mi chiedono tempo, mi chiedono tempo dal centralino. 17.000, l'ultima offerta per il Mambor. 17.000 per la prima, mamma mia, mamma mia. 17.000 per la seconda, 17.000, poi non c'è più nulla da fare, ha segnato il Mambor a 17.000, un milione di complimenti a chi ha preso un'opera, prendete un 20 per 30 di Mambor a questo prezzo, non un'opera di quel livello. Allora, la seconda opera che entra in gara è la strepitosa opera di Antonio Murgia, che vedete alle mie spalle, pubblicata questo, la realtà è differente, questo è il libro che è uscito per la mostra di Murgia in occasione della mostra all'isola di San Servolo durante la Biennale Veneziana e l'opera, eccola qua, pubblicata, pubblicata, un metro e venti per un metro e trenta, andate da Antonio Murgia, un'opera del genere, 120 per 130, vi chiede, lui come artista, vi chiede lui 5.000 euro, vi chiede lui 5.000 euro. Siamo, se non vado errato, a 1.200 euro, a 1.200 euro e l'opera è vostra, però spero ci siano tanti interventi. 1.800? 1.800 mi dice Gabriele, 1.800 euro il numero 4 di Antonio Murgia, 1.800 euro per la prima, no, Mambor è aggiudicato, basta, no, 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 non posso fare nulla, ve l'ho detto prima, nel momento in cui dico aggiudicato è finita, mi potete offrire anche il doppio, ma per questo vi dico 1.900 per il Murgia, per questo vi dico siate veloci, siate veloci e usate più il telefono che i messaggi, perché in una serata del genere, durante la giudicazione, restate al telefono. 1.900 per il Murgia, opera strepitosa pubblicata a 1.900 euro. siamo a 2.000 per Murgia, 2.000 adesso, 2.000 per l'opera di Murgia, 2.100, 2.100, 2.100, 2.100, amici veloci, 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 una delle opere più rare, una delle opere più belle, 2.100, 2.100, grazie, 2.100 per la prima, no, chiamate immediatamente, perché una volta aggiudicata l'opera, 2.200, 2.200, 2.200, do appena il tempo per replicare, 2.200, replicate immediatamente, siamo a meno della mia età di quello che vuole l'artista, è 2.200, 2.200 per la prima, veloci, 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 2.200 per la prima, 2.200 per la seconda, dai velocissimi, sento, 2.300 per il Murgia, 2.300 al telefono 2.200 per la prima, 2.400 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 per 10 secondi, 2004, assegnato a 2004, mille complimenti, opera preziosa di Antonio Murgia. Allora, in terza offerta, dove siamo in terza offerta Gabriele? Allora, in terza offerta siamo su TV Boy, per esempio, ma anche su Felipe Cardena, ma ti chiedo una cortesia, per farci mettere un po' di ordine, facciamo intanto un giro per vedere tutte le altre opere? Fai un giro, volentieri. Allora, il capolavoro di Pietro Cesarini Sforza, dedicato a Caravaggio. Scusami, nel frattempo, due offerte per Gualtiero Nativi, per la numero 7 200 euro, per la numero 8 400. Allora, per Gualtiero Nativi, 200 per il numero 7, 400 per il numero 8. Vi stavo facendo vedere quel gioiello di Pietro Cesarini Sforza, che l'artista vuole 8 mila euro, 120 per un metro, ho un'offerta a 400 euro, ho un'offerta a 400 euro, precipitatevi. Mi mancano ancora le offerte per il Lenzo Faraoni al numero 2, e per il Formichetti, che è uno degli astratti che oggi vanno per la maggiore, ho una prima ridicola offerta di 200 euro, precipitatevi. Il Murgia non c'è più. Il Felipe Cardena, dove siamo Gabriele per il Felipe Cardena? Credo, due offerte ce l'ho, siamo in seconda offerta a 500 euro, e il Cattelan di TV Boy, non so se siamo in terza offerta, ho due offerte, una a 500 e una a 600 euro, ma avete idea di quello che chiedono per i pezzi unici di TV Boy? Avete idea di quelle che sono le quotazioni di TV Boy? Siamo a prezzi completamente diversi. Poi, per le due opere di Gualtiero Nativi, la numero 7 ho un'offerta a 200 euro, mentre ho due offerte per la numero 8, siamo a 400 euro. Poi, per il Nespolo siamo a 1.000 euro in seconda offerta, precipitatevi sull'opera più clamorosa e più affascinante di Salvatore Emblema, precipitatevi sull'opera più clamorosa e più affascinante di Salvatore Emblema, TV Boy è in gara, siamo a 700 euro, TV Boy è vostro, siamo a 700 euro, poi ho Schifano, l'opera di Mario Schifano, siamo in seconda offerta a 1.500 euro. Sono molto preoccupato per il tempo che passa, perché qui se non entriamo, se non facciamo le gare... Allora, siamo ampiamente in gara per Felipe Cardena, 700 euro, e per TV Boy siamo arrivati a 900 euro. Ah no, siamo a 900 euro. 900 euro per TV Boy. Felipe Cardena quant'è? 700. Allora, siamo in gara per il Felipe Cardena a 700 euro. 700 euro è un 100% di Felipe Cardena, che a meno di 5.000 euro non lo comprate da nessuna parte del mondo. Siamo a 1.000 per TV Boy. 1.000 per TV Boy, 1.000 per TV Boy. Felipe Cardena a 700 euro. 700 euro per il Felipe Cardena è vostro. Mi chiede 5.000 euro, eh? Poi l'opera è bellissima. 800 per Cardena. 800 euro. È un 100% meraviglioso. 800 euro per la prima. 800 euro per la seconda. Allora, 900 per Cardena. 900 euro. tempo di replicare. E 1.100 per TV Boy. 900 per Felipe Cardena. 1.100 per TV Boy. 900 euro per il Felipe Cardena. Siamo a 1.000, mi dicono. 1.000 euro per il Felipe Cardena. Tempo per la replica. 1.000 euro per la prima. 1.000 euro per la seconda. Guardate che aggiudico il Felipe Cardena a 1.000 euro, eh? Questa è la serata dei 10.000 regali. Poi però, quando ci sono le trasmissioni normali, che vi chiedono 5.000 euro per un Cardena così, non pensiate. 1.100 per Elvira. 1.100 per Elvira. 1.100 per la prima. 1.100. Tempo per la replica. Ma velocissimi, eh? Ma velocissimi. 1.100 per la prima. 1.100 per la seconda. Dai, 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 dai. Subito. Quando vi capiterà mai più l'opportunità di prendere un'opera di Felipe Cardena a 1.100 euro? Dai, iperveloci. 1.200 per la prima. Chiamate immediatamente. Do pochissimo tempo per la replica. Devo assegnare. 1.200 per la prima. 1.200 per la seconda. 1.200, via, 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 regalato. Amici, è troppo tardi. Ve l'ho detto, durante le aste dovete restare al telefono, durante l'asta dovete restare al telefono, dovete restare al telefono. È una trasmissione che dobbiamo andare di corsa. Pezzo unico di TV Boy, a livello internazionale. Un'opera così di TV Boy, vogliono 4.000 euro. 4.000 euro. E' un'opera, poi è dedicata a Cattela, nella famosa banana. 107 per 79, pezzo unico di TV Boy. L'ultima offerta è 1.100 euro. Ma dovete essere straveloci. Perché poi succede, adesso, tutti vogliono il Mambo, tutti vogliono il Felipe Cardena, tutti vogliono il Murgia. Quando l'opera è giudicata, è giudicata, TV Boy così, costa 4.000, 5.000 euro, pezzo unico. E non è quello piccolo, perché sono quelli grandi, è 107 per 79. Siamo a 1.100 euro. Via, veloci, 1.100. Per la prima, 1.100. 1.200, 1.200, 1.300, 1.300 euro. Oggi, dopo, succede il macello, è 1.400, 1.400, 1.400. Ma di corsa, 1.400 euro per la prima, 1.400 euro per la seconda, guardate, 1.500, 1.500, 1.500 per la prima, 1.500 per la seconda, 1.500. di corsa, 1.500, 1.500, 1.500 euro per la prima, 1.500 euro per la seconda, 1.500 euro, spacco tutto. Spacco tutto, dai, ma non si fa, 1.500, 1.500, 1.500 euro per TV Boy, iper regalato, ma siamo letteralmente regalando tutto, siamo letteralmente regalando tutte le opere, allora, le due opere di nativi, una a 200 e una a 400 euro, il Nespolo è a 1.000 euro, l'emblema me lo compro io, scusatemi, la più bella delle opere di emblema. Per emblema non te l'avevo ancora passato, siamo a 2.500 euro. Carmela, avevo detto che spaccavo tutto, da 14,7 a 2.500 euro per l'opera di Salvatore Emblema, prima offerta, prima offerta per Salvatore Emblema, 2.500 euro, per l'opera di Schifano, siamo a 1.500 euro, per l'opera di Mario Schifano, 70%, paesaggio anemico rivisitato, meraviglioso, siamo a 1.500, pubblicato, pubblicato, vi do la cornice. Entra in gara a emblema con 3.000 euro di offerta. Quanto? 3.000. 30.000. Ci arriviamo, ci arriviamo, il Vira è ottimista. Allora, l'emblema entra in gara, a me sembra che sia in seconda offerta. No, no, allora, sono in gara a 3.000 l'emblema e a 1.500 lo Schifano, quindi le due opere che è alle tue spalle. Sono in gara a 3.000 l'emblema e a 1.500 lo Schifano, pensate voi. E sono arrivati 1.500 euro anche per l'opera di Nespolo, al numero 9. 1.500 anche per il gioiellino di Nespolo, al numero 9, che entra in gara, anche quella gemma di Nespolo. Allora, partiamo proprio dalla gemma di Nespolo, dai, così andiamo più o meno in ordine. Eh, no, c'ha le offerte, lo capisco. Partiamo dallo Schifano. Eh, partiamo dallo Schifano, dai. Mi dicevi lo Schifano è a... 1.500. Mi sento male. Eh, mi sento male. 70% pubblicato di Mario Schifano, paesaggio onemico rivisitato su tela computerizzata, meraviglioso, ma vendervelo a 7.000 euro, 8.000 euro, significa venderlo a nulla. Eh, a 7.000 euro, 8.000 euro, significa venderlo a nulla. 1.500 euro. 2.000 euro. 2.000 euro. 2.000 euro. Allora, un attimo, mettiamo ordine, anche per aiutare il Vira su WhatsApp. Allora, siamo a 1.700 euro per Nespolo, ampiamente in gara. Per Schifano sono arrivate, credo, 7 offerte da 1.600 euro, ma anche da 1.800, ma non vanno bene né da 1.700 né da 1.800. Io prendo quella di Davide a 2.000. Arriviamo almeno ai 2.000, andiamo di 500 in 500, perché se no non finiamo più. Io prendo quella di Davide a 2.000. Ok, e quindi andiamo di 500 in 500 per Schifano. Esatto. Allora, 2.000 euro per lo Schifano, 1.700 per il gioiello di Nespolo, ed è in gara anche a 3.000 euro il fiore più bello della storia, 110% di Salvatore Emblema. Allora, concentriamoci sull'opera di Mario Schifano, per la quale siamo... Siamo a 1.900 per Nespolo, intanto. 1.900 per l'opera di Nespolo, 1.900 per l'opera di Nespolo e siamo a 2.000 euro per l'opera pubblicata di Mario Schifano. 2.000 euro per la prima, 2.000 euro per la seconda, 2.500, 2.500, squillano tutti i telefoni, 2.500 per la prima, 2.500 per la seconda. Mi chiedono tempo, 2.500, 2.500, 2.500 per l'opera di Nespolo e siamo a 2.500 per lo Schifano. Io lo aggiudico, no? Elvira mi dice di aspettare, 2.500 per la prima, 3.000 per la prima, 3.000 per la seconda. Fai, fai come vuoi, intanto tutte le offerte che mi fate io le prendo, dai, 3.000 per la prima, amici, opera strepitosa, pubblicata, straordinaria di Mario Schifano, che mi offre più di 3.000 euro per la prima, 3.000 euro. Siamo a 3.100. 3.100. Amici, vi capisco, ma questa sera veramente state ottenendo l'incredibile e l'impossibile. 3.100 euro per la prima, 3.100 euro per la seconda, chiamate. Poi, quando mi chiederete un'opera di Mario Schifano così e vi dovrò chiedere 7, 8, 9 mila euro come è normale, non ditemi, guarda, quella sera è successo quello, perché quello che sta succedendo questa sera non ha uguali. Ma sono le grandi opportunità che vi capitano durante la pandemia, perché in un altro momento un'opera del genere, un prezzo del genere, mai nella vita. Allora, siamo a 3.200 per Schifano, 3.500 per Emblema e 2.100 per Nespolo. 3.002 per Schifano, 3.005 per Emblema e per Nespolo, 200 per Nespolo. La cosa che mi preoccupa è che siamo su Mario Schifano a 3.002, che siamo su Mario Schifano a 3.002. 3.002 per la prima, 3.002 per la seconda, nessuno mi offre più di 3.002. Poi sono strasicuro che mi verrete a rinfacciare questo prezzo per anni, ma non è mai successo che un'opera 70% pubblicata, splendida, di Mario Schifano venisse aggiudicata a 3.200 euro. 3.002 per la prima, 3.002 per la seconda, 3.002, 3.002 per la seconda, 3.002, e aggiudichiamola a 3.002, che vuoi che ti dica, veramente sotto zero, letteralmente sotto zero. Andiamo sull'opera di Nespolo, che è una delizia, che è una delle opere più rare ed è una delle opere più belle di Nespolo, per la quale siamo a 2.100 euro, 2.100 euro per quest'opera assolutamente preziosa di Ugo Nespolo, 2.100 euro per la prima, 2.100 euro per la seconda, 2.100 euro, aggiudichiamo quest'opera di Nespolo veramente preziosa, a un prezzo irrilevante. E poi sempre in gara ho quest'opera letteralmente straordinaria, letteralmente superiore, letteralmente incredibile di Salvatore Emblema. Qui non dobbiamo scherzare. Chiedete alla Fondazione Emblema, questo è un emblema del 1995, questo è un emblema degno del Metropolitan Museum di New York, dove trovate le opere di emblema. Questo è un emblema degno della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Chicago, dove trovate le opere di emblema. Questo è un emblema degno della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Rotterdam, dove trovate le opere di emblema. È un fiore del Vesuvio con le terre del Vesuvio su tela di tessuta che avrebbe fatto impazzire Argan. È un pezzo da museo. Quando vi hanno chiesto 14.700 euro, vi hanno chiesto nulla. Vi hanno chiesto nulla. Siamo ad una cifra assolutamente ridicola. Siamo a 4.000 euro. 4.000 euro è una cifra ridicola per emblema. È una cifra letteralmente ridicola per un'opera di emblema di questo livello. 4.000 euro, 4.000 euro l'ultima offerta. Amici, una serata del genere, ve lo giuro, è irripetibile. Ve lo giuro, una serata del genere è letteralmente irripetibile. 4.000 euro per l'opera strepitosa di Salvatore Emblema. E 2.000 euro per l'opera di Angeli. E 2.000 euro per il gioiellino di Franco Angeli. 4.000 euro per quell'opera strepitosa di emblema. 4.000 euro per la prima. 4.500 euro per l'emblema. Sì, ma vado via perché siamo troppo lontani. Dai, un quadro del genere dovrei sentire 8.000, 9.000, 10.000, 11.000. È una delle opere chiave, è una delle opere fondamentali, è una delle opere storiche di Salvatore Emblema. Chiedi al museo Emblema, alla fondazione Emblema, cosa vale un'opera del genere, ti dicono che a 14.7 è regalata. Siamo a 4.500 euro. Siamo a 4.500 euro. 4.500 euro per la prima. 4.000, io delle volte non vi capisco. Vi giuro, delle volte... 5.000. 5.000 euro adesso. Vi giuro che delle volte non vi capisco. Quando avete le opportunità principesche, quando avete le opportunità epocali, esitate. Questa è un'opera epocale di emblema. Questa è una delle più grandi opere di Salvatore Emblema. E a 5.000 euro me la state facendo aggiudicare in maniera assurda, in maniera irreale, in maniera addirittura irresponsabile. Parlare di un'opera di emblema di questo livello a 5.000 euro è veramente da irresponsabile. 5.000 euro. 5.5. 5.5. 5.5. Un'invocazione, non perdetele. Un'invocazione, non perdetele. Un'invocazione, non perdetele. Un'opera di emblema incredibile, un'opera di emblema straordinaria di una pulizia mentale superiore. 5.500 euro. 5.500 euro. Ma grazie a voi, amici, non costringetemi ad aggiudicare un'opera del genere, un'opera di questo livello a 5.500 euro. 5.500 per la prima, 5.500 per la seconda, aspetto. 5.500, assegnata, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, 5.500, quest'opera incredibile di Salvatore Emblema. Allora, Gabriele, mi dai un aggiornamento? Intanto erano arrivati 5.600 su Whatsapp, ma purtroppo... No, 5.500, poi è già aggiudicato. Eh sì, quello che voglio dire ai nostri amici saremmo i primi a esserne contenti, però purtroppo non è possibile. L'angeli è a 2.000 euro. L'angeli è a 2.000 euro. E il Cunellis, ma non è mica una di quelle opere fasulle, i mezzi dollari rifatti un milione di volte e che ve li vendono a 3.000 euro. Falsi. Questo è vero. Questo è vero ed è autografo. È un 60 per 80 ed è anche una delle opere belle ed è anche una delle opere importanti di Franco Angeli. Una di quelle opere da batticuore di Franco Angeli, veramente superba. E poi, al numero 14, ho una sola offerta per un gioiello di Cunellis 31x24, che è addirittura un omaggio alla grande mostra del 69 all'attivo. No, Franco, c'era una seconda offerta, non è riuscito a passartela, siamo a 1.300 euro. 1.000? E tre. 1.300 per il Cunellis. Ma sai che è niente, eh? Dovrei chiedere 5.000, 6.000. Ho per il grande quadro di Drudi, che è meraviglioso. L'ultima offerta che ho è 700 euro. Per il grande quadro di Drudi, un metro e 20 per un metro, che è un quadro meraviglioso, che è un quadro straordinario, l'ultima offerta che ho è a 700 euro. Non ho parole. Le facciamo vedere un attimo tutte, mi chiedo, no? Quelle rimaste. Quale? Mi chiedo che facciamo vedere quelle rimaste. Faccio vedere tutto. Sai come, magari? Le facciamo vedere e intanto dico a quanto siamo con... Allora, cominciamo dalla Pietro Cesarini Sforza al numero 1, che è una delle opere che io adoro, questo omaggio a Caravaggio, 120%. Allora, per Sforza siamo a 600 euro seconda offerta. 600 euro seconda offerta. Vi ricordo che se andate da Pietro Cesarini Sforza, per un'opera così vi chiede 8.000 euro. Al numero 2 c'è quella natura morta deliziosa di Enzo Faraoni. Che al momento non ha offerte. Non ha offerte? No. E perché? Che ti devo dire? Che ti devo dire? Ti posso dire invece che siamo in gara con Formichetti. Siamo a 400 euro. Allora, Formichetti, che è un artista strato, contemporaneo, meraviglioso, e l'opera è tra le più belle, è un 70% ad olio su tela, siamo a 400 euro. Siamo a 400 euro. Ho occasioni del genere, non vi capiteranno mai più, quindi dimenticate la possibilità di acquisire opere del genere a prezzi del genere. Poi dal numero 3 andiamo al numero 7 e numero 8. Dove abbiamo una prima offerta da 200 euro per la numero 7 e una seconda offerta da 400 euro per la numero 8. Aggiungo che sono tutte e due opere del 1977, le due opere di Gualtiero Nativi. Quindi da collezione. Poi arriviamo al numero 12, quella splendida opera di Franco Angeli. E siamo a 2000 euro. Il Franco Angeli è un 60 per 80 di qualità eccezionale e siamo sotto zero, siamo a 2000 euro. Poi c'è il Cunellis che piace a me. C'è quel pezzo di storia di Giannis Cunellis assolutamente prezioso dell'82, per il quale siamo a 1300 euro. E al numero 15 c'è quella lei strepitosa, un metro e venti per un metro, un'opera meravigliosa di Mauro Drudi. Non sottovolatate questi artisti contemporanei che stanno ottenendo successi clamorosi. Questa è un'opera di Mauro Drudi, di una bellezza, di una pulizia, di una essenzialità letteralmente straordinaria. Ricordate Mauro Drudi al numero 15. Al numero 16 c'è il quadro che amo alla follia. Che ancora non ha offerte. Che ancora non ha offerte. Ve lo posso dire, leggete Artein per cortesia, perché dovete essere informati. Questa è una tela 80%, la mitica Domus Balnea del 2003, di Carlos Grippo. Il più grande pittore uruguayano del XX-XI secolo. È scomparso sei mesi fa. Carlos Grippo è il più grande pittore del metropolismo, chiedete ad Achille Bonito-Liva, ed è una delle firme più ambite dai più grandi collezionisti del mondo e dai più grandi musei del mondo. Il metropolismo, altro non è che la prosecuzione intellettuale della trans-avanguardia. Opera pazzesca, la Domus Balnea, odio su tela di Carlos Grippo. Non partecipare, non comprare un'opera del genere, significa essere disinformati. Proprio perdere un grandissimo. Oggi le opere di Carlos Grippo costano 8 mila, 9 mila, 10 mila dollari. Qui ancora non ho offerte ed è uno scandalo, ed è letteralmente uno scandalo. Poi uno dei bellissimi volti di Alessandro Gabbia, quelle che lui chiama timide presenze. E siamo a 400 euro. 400 euro per l'opera di Alessandro Gabbia, un'opera molto particolare. E poi c'è quel, io lo trovo delizioso, è piccolino, ma è un gioiellino, è un disegno di Nino Tirinnanzi. E' appena arrivata l'offerta di 200 euro. 200 euro per questo gioiellino da grande collezione di Nino Tirinnanzi. Poi al numero 19 c'è uno splendido multiplo in 50 esemplari del 2006, 60 per 85 di Pino Pinelli. Queste sono le opere concettuali che oggi tutto il mondo vuole. Queste sono le opere concettuali letteralmente affascinanti di Pino Pinelli. Qui ho un'offerta a 300 euro. Ne chiede tutto il mondo 2 mila. Tutti chiedono 2 mila euro. 300 euro. E poi, amici, un'altra di quelle opere. E poi, amici, un'altra di quelle opere. Dalla Biennale di Venezia, pubblicato sul libro ufficiale della Biennale di Venezia. Questo vale Rauschenberg. Questo vale Rauschenberg. Artista di 90 anni che tutto il mondo vuole. E qui siamo in gara perché è arrivata l'offerta, la terza di 600 euro. Quanto? 600. Universi diversi. 66 per 61. Dalla Biennale di Venezia di Giuseppe Biagio, per il quale vi ho sempre chiesto 5.500 euro. È in gara a 600 euro. Non dico altro. Pubblicato sul libro ufficiale della Biennale di Venezia. È in gara a 600 euro. Non dico altro. Poi, al numero 21, una marina del Salento, una veduta del Salento, 50 per 70 di Michele Carpignano. Siamo a 400 euro. Quattrocento euro prima offerta. Un'opera storica. Un totem ferroso su monocromo rosso. Un'opera letteralmente storica di Fabrizio Tedeschi, 60 per 80, che vale una montagna di soldi. Che vale una montagna di soldi. Ho 400 euro in prima offerta. 400 euro per il Tedeschi. E poi chiudo con il grande quadro della memoria di Annu Palosuo, al numero 23, 120 per 80, una delle grandi straordinarie opere di Annu Palosuo. 1.500 euro, ne chiediamo 8.000, 1.500 euro, ed è in gara questa superba opera di Annu Palosuo. Allora, ditemi tutto. È in gara. Gabriele, dimmi quali sono le opere in gara. Allora, è arrivata una prima offerta di 400 euro per l'opera di Carlos Grippo. Poi siamo in gara per Palosuo, 1.500 euro. Siamo in gara con Biasio, con 600 euro, figurati. Siamo in gara con Drudi, siamo a 800 euro con Drudi. Dopodiché siamo in gara con Cunellis, siamo a 1.600 euro. Siamo in gara con Angeli, siamo a 2.300 euro. E siamo in gara con Formichetti, siamo a 400 euro. Insomma, abbiamo veramente tante cose da fare. Allora, andiamo in ordine. Da dove vuoi cominciare? Dalla fine? Vogliamo cominciare dal Palosuo? Allora, Palosuo, Palosuo. Io ogni volta che ho la fortuna di leggere un'opera di Palosuo mi emoziono. E ogni volta che ho la fortuna di incontrare quest'artista, che è un artista finlandese, l'unico artista finlandese che ha avuto l'onore, è ancora giovane, è un cinquantenne, ha avuto l'onore già di tre biennali veneziane. Ma ci sarà la quarta, ci sarà la quinta. E' uno di quegli artisti che letteralmente lavora con i più grandi mercanti del mondo, con i più grandi operatori finanziari del mondo. Ed è fondamentale. Un'opera del genere, di questo livello, storica, di anno Palosuo, costa, lo sapete, 8.000-10.000 euro. Siamo a 1.500 euro. Siamo a 1.500 euro. Che devo dire? A 1.500 euro comprate un 20x30 di un artista debuttante. Non di un artista famoso in tutto il mondo, uno degli artisti più importanti della figurazione contemporanea, che vende in tutto il mondo. Io vi ho venduto i 18.24 di Palosuo a 1.800. I 18.24. Questo è un metro e venti per ottanta. Siamo a 1.500 euro. Amici, tocca a voi. 1.500 per la prima, 1.500 per la seconda. Siamo a 1.600. Elvira, come fai 1.600? Scusa, le offerte non erano 500 in 500? Ebbè, se l'hai accettata non posso dirti nulla. 1.600. 1.600 per il Palosuo. 1.600. 1.600. 1.700 per me. 1.700. 1.700 per il Palosuo. 1.700 per la prima. No, amici miei, una serata di giorni va bene che è inaspettata, va bene che non l'abbiamo pubblicizzata. Quindi, nessuno di voi se l'aspettava, io stamattina non sapevo quello che sto facendo adesso, non sapevo quello che avremmo fatto, ma coloro che sono davanti al teleschermo e che non approfittano di un'opportunità del genere è veramente il massimo. 1.700 per il Palosuo. Siamo a 1.800. 1.800 per il Vira. 1.800, ho proprio il tempo per la replica, velocissimi. 1.800 per il Vira. 1.800 per la prima. 1.800 per la seconda. Aspetto un attimo perché giustamente aspetto la replica. 1.800 euro. 1.800 per la prima. 1.800 per la seconda. 1.800 per la seconda. 0.000 per il Vira. 1.800 per la seconda. Ho un minimo di tempo per la replica, ma velocissimi. 1.009 per la prima, 1.009 per la seconda. Devo aspettare perché cadono anche le linee. 1.009. 1.009, velocissimi, 1.900 euro per un'opera superba di Anno Palosuo. 1.009. 1.009 complimenti, complimenti, complimenti sotto zero. Allora, c'è una preziosità rarissima di Fabrizio Tedeschi. Le opere di Fabrizio Tedeschi così non esistono sul mercato. Con l'apertura del mercato cinese queste sono cose introvabili. E' un 60 per 80. Quando vi chiedo 3.000, 4.000 euro, vi chiedo nulla. E' a 400 euro. E' a 400 euro. Come a 400 euro è questa veduta del Salento di Michele Carpignano. E' in gara invece, al numero 20. Siamo a 600 euro per Tedeschi. 600 euro, seconda offerta per Tedeschi. Quindi con la terza offerta entra in gara, precipitatevi. Per Biasio siamo a 900 euro. Per l'opera di Biasio. Mi porti il libro ufficiale della Biennale di Venezia, pubblicato sul libro ufficiale della Biennale di Venezia. Artista pazzesco che vogliono tutti, vogliono tutti i grandi musei. Due Biennali di Venezia, quella del 2017 e quella del 2019. La grande mostra del 2018 alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Vedete, la pittura rimane un linguaggio puro cristallino per sua natura. Guardate com'è pubblicata quest'opera di Biasio. Eccola qua. Pubblicata sul libro ufficiale della Biennale Veneziana. Io vi chiedo 5.000 euro di un'opera di Biasio così. Ed è un regalo, perché sono gli artisti che stanno volando sul mercato internazionale. Ma questa sera viviamo una serata del tutto particolare. Questa gemma di Biasio, vi ho fatto vedere la pubblicazione, 66 per 61, è vostra a 900 euro. Poi, non meravigliatevi quando nelle trasmissioni normali vi propongo le opere di Biasio a 5.000, 6.000, 8.000, 10.000, secondo la grandezza. 900 euro per la prima, 1.000 euro per la prima, 1.100, 1.100 euro, 1.100 euro per la prima, 1.100 euro per la seconda, 1.200. 1.100 euro per Gabriele, 1.200 per Gabriele, 1.200 per Gabriele, velocissimi amici, approfittate di una serata inaspettata ed assolutamente incredibile. 1.200 per l'opera di Biasio, 1.300 per Elvira, 1.300 euro per la prima, 1.300 euro per la seconda, si aggiudica, complimenti un milione di volte, a 1.300 euro. Tutti vogliono le opere concettuali, tutti vogliono le opere di Pino Pinelli. Franco, anche qui mi dispiace, è arrivata l'offerta last second, ma che non possiamo accettare, saremmo contenti anche noi. Sono arrivati 1.400 due volte, ma ne vale 5.000, dai. Comunque, mi dispiace, dovete affrettarvi per le offerte, dovete essere veloci. Ho di Pino Pinelli, queste vi chiedono 2.000 euro, le opere di Pino Pinelli così, le opere di Pino Pinelli di questa bellezza, tra l'altro è un'opera purissima del 2006, 60 per 85, vi chiedono un minimo 2.000 euro, siamo a 300 euro. Siamo a 300 euro. Poi siamo per il Gabbia a 400 euro, per il gioiellino di Tirinnanzi, piccolino ma di grande qualità, siamo a 200 euro. Queste sono tutte gare aperte, quindi vi dico fate le vostre offerte, fate le vostre proposte. Poi ci sono amici che investono da noi centinaia di migliaia di euro. Come vi dico di comprare le grandi opere di Lo Giudice, di Algardi, di artisti che in questo momento tutto il mondo vuole, vi dico prendete le opere del Metropolismo di Carlo Sgrippo. Valgono cifre enormi, sono introvabili. Io un'opera di Carlo Sgrippo così la valuto perlomeno 8.000 euro, ma minimo, ed è il più grande artista del Metropolismo. Chiedete ad Achille Bonito Liva, purtroppo scomparso sei mesi fa. Qui c'è uno scandalo, ho una sola offerta a 400 euro. Quindi vi dico non perdete quest'opera di Carlo Sgrippo. Poi ho in gara invece, a un prezzo letteralmente assurdo, a un prezzo letteralmente immorale, questa splendida opera di Mauro Drudi, quest'opera letteralmente straordinaria, quest'opera letteralmente superiore, 120% di Mauro Drudi. Siamo anche qui, vi chiedo normalmente 3.800 euro per un'opera di Mauro Drudi del genere. Siamo a 800 euro. Siamo a 800 euro. È una tela, un metro e venti per un metro di Mauro Drudi. È una meravigliosa tela, un metro e venti per un metro di Mauro Drudi. Dottor Boni, il Pinelli entra in gara con 500 euro al momento. Quale scusami? Il Pinelli. Il Pinelli entra in gara con 500 euro. Allora, è in gara, è vostro. Devo passare all'aggiudicazione per questa splendida lei su tela di un metro e venti per un metro di Mauro Drudi. 800 euro. 800 euro per la prima. Drudi, 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 meraviglioso. Drudi siamo a mille. Mille euro. Mille euro. Io lo so quello che accade, che poi quando aggiudico accade come con il palosuo, con il biasio, come con l'emblema. Poi arrivano tante altre offerte, ma quando è tardi è tardi, non c'è niente da fare. Quando io ho aggiudicato, ho aggiudicato. Mille euro per il Drudi. Mille e cento. Mille e cento. Mille e cento euro per l'opera di Mauro Drudi. La cosa importante, ve lo dico, è che poi nelle trasmissioni normali questi prezzi li dovete completamente dimenticare, perché non me lo dovete nemmeno dire che è accaduto quello che sta accadendo in questa serata. Per il Mauro Drudi siamo a? Mille e due, mi dice. Mille e due adesso. Do il tempo per la replica, dai. Mille e duecento euro. Mille e cento euro per la prima. Mille e duecento euro per la seconda. Mille e duecento euro. un'opera preziosissima di Drudi. E quell'opera storica di Cunellis. E è quell'opera assolutamente storica, 31 per 24 di Giannis Cunellis. Vuoi far vedere? Quest'opera si ispira alla mostra che dette celebrità Cunellis, la grande performance all'attico del 69. E io posso dire... Siamo a mille e sei, lo sai per Cunellis? Quanto siamo per Cunellis? Mille e sei cento euro. Mille e sei, sì. Mille e sei è in gara. Mille e sei cento euro è in gara. E sai anche che per Angeli siamo a due e cinque, giusto? Sì, ci prego. Come? E per Angeli siamo a due e cinque. Ah, duemila e cinquecento euro per... Io veramente ho due e sei per l'opera di Angeli. Allora sbagliavo io, dai. Due e cinque. Due e cinque per l'Angeli. Siamo scandalosamente a mille e sei per il Cunellis mentre ringrazio gli amici... Allora scusa Franco se ti interrompo così ricapitoliamo. Siamo in gara per... Partendo dalla fine... Allora, Grippo è entrato in gara. Siamo a seicento euro. Seicento euro per il Grippo che entra in gara. Cunellis siamo a mille e sei cento euro. Mille e sei per il Cunellis alle mie spalle. Angeli duemila e cinque. Angeli duemila e cinquecento euro. Formichetti quattrocento, queste sono le opere in gara. Quale? Formichetti. Ah, il Formichetti a seicento euro. Bene, allora le chiudiamo immediatamente. Guarda e li hai chiamati duemila e seicento euro per Angeli. Due e sei per Angeli. Due e sei per il delizioso, raffinatissimo dipinto di Angeli. Allora, siamo a mille e sei cento euro scandalosamente per l'opera di Giannis Cunellis. Non esiste al mondo. Non esiste al mondo. Mille e sei cento euro l'opera di Giannis Cunellis. Mille e otto? Mille e otto adesso. Mille e otto. Mille e otto. Mille e otto. Mille e otto. Giannis Cunellis a mille e otto. Non dovete essere indecisi perché non vi capiterà mai più nella vita comprare un'opera vera di Giannis Cunellis. Ma ditemi il museo al mondo che non espone un'opera di Giannis Cunellis. Non esiste. Mille e sei. Mille e otto scusatemi. Mille e otto per la prima. Mille e otto per la seconda. 2.000 mi dicono. 2.000. 2.000. 2.000 per la prima. Dai ma replicate. Sapete quanto vale? Queste sono opportunità gigantesche che non vi ricapiteranno mai più. Siamo a 2.000 euro per la prima. 2.000 euro per la seconda. 2.2. 2.2. Ma non perdetela. Non perdetela perché non vi ricapiterà mai più. 2.200 euro. 2.200 euro. 2.200 per la prima. 2.200. Vedo un attimo. Dimmi. 2.200. 2.4. 2.4. 2.200 per la prima. 2.200 per la seconda. 2.700. Ma quando mai più nella vita vi capiterà di poter comprare un'opera vera, autentica, preziosa di Giannis Cunellis a 2.700 euro? In quale asta? Io ho visto un percorso di Giannis a giudicato a 90.000 euro. Carta, carta. Siamo a 2.700 per la prima. No, scusa, torniamo ai 2.400 perché i 2.700 erano per Angeli. Ci siamo capiti male. Allora torniamo a 2.400 addirittura. Io già mi lamentavo dei 2.700. 2.400 per la prima. 2.600 per la prima. 2.600 per la seconda. Squillano i telefoni. 2.800 per la prima. 2.800 per la prima. 2.800 per la seconda. 2.800 per la prima. 2.800 per la seconda. 3.800 per la seconda. 3.000 per la prima. 3.800 per la prima. 3.100 per la prima. 3.800 per la prima. prima, Jannis Cunellis a 3.100 Euro. 300 per la prima, 3.200 Euro, 3.200 Euro, Jannis Cunellis. Allora, il Mauro Drudi ha giudicato, andiamo all'Angeli, andiamo a quella superba opera di Franco Angeli. Sono le opere giuste, sono le opere vere, sono le opere sacrosante, sono le opere di qualità eccezionale, sono le opere meravigliose di Franco Angeli, quelle fatte da lui e la stiamo mortificando perché è una tela 60 per 80 letteralmente superiore e la stiamo mortificando perché siamo solamente a 2.700 Euro. 2.700 Euro per una gemma di Franco Angeli di questo livello. 2.700 Euro. Chiamate, 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 chiamate. Sono gli ultimi minuti, le ultime opere che avete a disposizione a condizione di prezzo incredibili. I prezzi li fate voi, quindi più incredibili di così è impossibile. Dai, 2.700 Euro. 2.700 per la prima. Altro che prezzi pazzi, prezzi assurdi. 2.700. Scusatemi, mi comprate gli half dollar che sono dei monotipi. A 2.500, 2008. A me mi fate diventare matto. Poi volete le autentiche, le contrautentiche e vi fate infinocchiare dal sistema in maniera incredibile. Vi comprate i monotipi di Franco Angeli a 2.700, 2.800, 3.000 Euro e quando trovate un'opera vera, autografa, da pubblicazione, da mostra di qualità straordinaria a 2.700 Euro fatta da lui. Nemmeno quelli di scuola, nemmeno quelli di atelier. No, quelli dipinti da Franco Angeli. 2.800 per Angeli. 2.800, ma non cambia nulla. Dovrei arrivare a 6.000, 7.000. 2.800 per la prima. Dai, via amici, ci vuole brio, ci vuole proprio partecipazione, gioia. 2.800 Euro. Un'opera di Franco Angeli che è una gemma. Un'opera di Franco Angeli che è una meraviglia. A 2.800 Euro. Vedi, queste sono letteralmente le assurdità che capitano in una serata nella quale avete voi la libertà assoluta di fare i prezzi e naturalmente ne state approfittando in maniera incredibile. A 2.800 Euro quest'opera di Franco Angeli. Vi giuro che mi viene voglia di fare 2.900 Euro. Lo trovo scorretto nei vostri confronti, ma mi viene questo desiderio. 2.900 Euro. Do il tempo della replica. Do il tempo per replicare. 2.900 Euro. 2.900 Euro. 2.900 per la prima. 2.900. 3.000. 3.000. Sì, ma replicate immediatamente perché non si perdono i grandi quadri ad una cifra del genere. Non si perdono le opere vincenti ad una cifra del genere. Amici, a 3.000 Euro. 3.000 Euro per la prima. 3.000 Euro per la prima. 3.500 Euro per la prima. 3.000 Euro per la prima. 3.000 Euro per la prima. 3.200 per Elvira, 3.200 euro, 3.200 per la prima, 3.200 per la seconda. Amici, poi dopo vengono un mare d'offerte per le opere aggiudicate, per le opere aggiudicate hanno tutte offerte superiori. Amici, a 3.200, aggiudico, 3.200 per la prima, 3.200 per la seconda, 3.200, devo aspettare un attimo. Ma a prezzi, 3.2, 3.2 assegnato a 3.200 euro. Allora, vediamo le opere che sono ancora in gara. Amici, c'è il grippo più clamoroso della storia. Questa è un'opera che non ha prezzo. Questa è un'opera che non ha prezzo. È un 80% di Carlo Sgrippo. La Domus Balne ha una tela del 2003. Questa è un'opera che a 8.000 euro oggi non la compri sul mercato internazionale. Gabriele, qual è l'ultima offerta per il grippo? Siamo a 800 euro. 800 euro. Ma rendetevi conto, comprate il signor Nessuno. Franco entra in gara anche il Nativi al numero 8, 500 euro. Anche il Nativi entra in gara? Comprate a 2.000, 3.000 euro il signor Nessuno. Questo è il più grande pittorio uruguayano di sempre. Ed è il numero uno del metropolismo internazionale. Una tela straordinaria, 80%. Siamo a 800 euro. Non ad 8.000 euro. A 800 euro. Fai vedere che cos'è quella tela. 800 euro per la prima. 800 euro per la seconda. Dai, iperveloci. 800 euro per la prima. 800 euro per la seconda. Aspetta, aspetta. Aspetto, aspetto. 900. 900 euro e aspetto la replica. 900 euro e aspetto la replica. 900 euro per la prima. 1.000. 1.000 per Elvira. 1.000 euro. 1.000 euro per la prima. Aspetta, aspetta, aspetta. Velocissimi, eh? 1.000 euro per la prima. 1.000 euro per la seconda. Posso assegnare? 1.000 e 2 per me. 1.000 e 2 per Gabriele. 1.000 e 2 per Gabriele. 1.000 e 3 per me. 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 1.000 e 3. 1.000 e 3. 1.000 e 3. 1.500 per Davide, 1.500 per Davide, 1.000 e? 1.000 e? 1.000 e? 1.700 per me. 1.000 e? 1.800 per la prima, 2.000 per Gabriele, 2.000 per Gabriele, 2.000 per la prima, 2.000 per la seconda, si assegna a 2.000 euro, complimentissimi, complimentissimi. Poi andiamo da un'opera del metropolismo come quella strepitosa, avete fatto un acquisto formidabile di Carlo Sgrippo, andiamo ad una delle opere astratte di maggiore attualità, quelle che oggi uno degli artisti oggi più ambiti, uno degli artisti oggi più amati, guardate che cos'è questo 70% letteralmente meraviglioso di Silvio Formichetti, guardate che cos'è quest'opera di Formichetti. Gabri, siamo in gara? A me si risultava a 600, no? a qua, mamma mia! No amici, ma per favore, Silvio Formichetti è un artista importante, Silvio Formichetti è un artista che ormai ha una storia, un peso nell'astrazione italiana. Questa è una tela, questa è una tela 70% e siamo a 400 euro, 400 euro per la prima, 400 euro, 500 euro, mi dice Elvira, io sono convinto che opportunità del genere non vi capiteranno mai, mai, mai più nella vita. Opportunità del genere è poter acquisire opere di questo livello ai prezzi? 800. Quanto? 800. 800 per Elvira, 800, ma è un'opera di Silvio Formichetti, vera, su tela, non è, ed è un'opera anche di qualità, 800 euro per la prima, squillano i telefoni, 800 euro per la prima, 800 euro per la seconda, si assegna ad 800 euro. Veramente preziosa. Amici, state approfittando troppo, mi fai vedere quel piccolo gioiello di Faraoni? Mi fai vedere quel piccolo gioiello di Faraoni per il quale ancora non ho offerte? Gabriele mi dice 100 euro. Amici, ma nemmeno la cornice, non lo so, è un olio di Enzo Faraoni delizioso, una natura morta di Enzo Faraoni deliziosa? 100 euro, mi dice Gabriele. Chi offre più di 100 euro per questo gioiellino di Faraoni? Chi offre più di 100 euro per questa gemma di Enzo Faraoni? 100 euro per la prima, 100 euro per la seconda, dai amici, ma se non intervenite su un'opera di questo gusto a una cifra del genere? No? 150. 150 euro è uno, ma è delizioso, ma è delizioso. Guarda, c'è una cornice che è una delizia. 150 euro per la prima, 200 euro per Gabriele. 200 euro. 200 euro. Quanto? 220. 250 per Elvira. 250 per Elvira. 250 per la prima, 300 in regia. 300 in regia. 300 in regia. 300 in regia per la prima, per la seconda, si aggiudica a 300 euro, una delizia. Poi ci sono, guardate, sono le ultime clamorose opportunità. Ci sono le due opere, una più bella dell'altra di Gualtiero Nativi. La numero 8, questa, del 77, siamo a 500 euro. Costano duemila, duemila, duemila e cinque. 500 euro, Gualtiero Nativi, 1977. 500 euro per la prima. stiamo presentando il Nativi. 500 euro per la prima. 500 euro per la seconda. No, amici, un'opera storica del 77, di Gualtiero Nativi a 500 euro. Dai, chi mi offre più di 500 euro? Chi mi offre più di 500 euro per quella gemma di Gualtiero Nativi? Siamo a 600. 600. 600 euro per il Nativi. 600 euro per la prima. 600 euro per la prima. 600 euro per la seconda. 600 euro per la prima. 600 euro per la seconda. 600 euro. 600 euro. Assegnato il Nativi a 600 euro. Allora, Gabriele, dimmi tu dove dovevo andare? Allora, numero 24. Quale? C'è l'ultima parete. Qui c'è il Cesarini Sforza. Pietro Cesarini Sforza, da 8.000 euro. L'omaggio a Caravaggio, dalla Cappella Contarelli di San Luigi dei Francesi. Io dovrei chiedervi 8.000 euro. Siamo a 600 euro. È un'opera di un metro e venti per un metro, meravigliosa di Pietro Cesarini Sforza. Siamo a 600 euro. 800 euro. 800 euro. 800 euro per la prima. 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 800 euro. euro. Poi, io chiedo scusa all'artista, chiedo scusa al maestro, ma se voi andate a chiedere il prezzo al maestro, vi chiede una cifra 8.000 euro. Non esce un quadro dallo studio di Pietro Cesarini Sforza a meno di 8.000 euro. Siamo a 800 euro. Un omaggio a Caravaggio che sono le sette bellezze. Chi mi offre più di 800? 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 via, ha segnato. Poi, non lo so, credo che sia il Pinelli in gara. Credo che ci sia il multiplo di Pinelli al numero 19 in gara. Pino Pinelli, pittura grigia multiplo del 2006, 60 per 85. Gabriele, per il 19 di Pinelli, che offerta hai? 500 euro. 500 euro per la prima. 500 euro per la seconda. 600 euro. 600 euro per la seconda. 600 euro per quest'opera di Pino Pinelli. Si assegna. Hai altre richieste? tedesche? Tedeschi? Carpignano? Ma abbiamo 15 minuti. Ma io assegno tutto a questi prezzi. A questi prezzi. Gabriele mi dice vai troppo veloce. No, è che mi avete scoraggiato. Quando mi fate assegnare delle opere che costano 6.000, 7.000, 8.000 euro, a 700 euro, a 800 euro, poi che differenza fa se le assegno a 800, a 1.000, a 1.200? Allora tanto vale che ve la regalo e buonanotte. Perché, capite, il divario del prezzo è talmente enorme che non è che se lo sforza o lo giudica 800 o lo giudica 2.000. È un regalo sempre. Quindi che faccio? I più intelligenti ne approfittano al volo. E chi sta lì ad aspettare, mi dia 14 ore, ci resta male. Ma gli sta pure bene. Però gli sta pure bene. Allora c'è ancora il Gabbia, c'è ancora l'opera di Gabbia, c'è ancora quella gioiellino di Tirinnanzi, c'è ancora quella splendida veduta del Salento di Michele Carpignano e c'è un'opera di Fabrizio Tedeschi da fantascienza. E c'è un'opera di Fabrizio Tedeschi da fantascienza. Senza contare che c'è ancora una di quelle opere di nativi da follia che è al numero 7. Adesso vi do tutto il tempo che volete, fate voi. Ditemi su quale opera devo andare. Gabriele vi ha preparato? Come? È appena entrato in gara il tedeschi a 700 euro. Allora il tedeschi è vostro a 700 euro, quindi è un 60 per 80 e ve lo faccio vedere. Ne dovrei chiedere 4.000. Siamo a 700 euro, fate voi. E Gabriele vi ha preparato il cadeau dei cadeau dei cadeau. E Gabriele vi ha preparato il cadeau dei cadeau. Vieni qui. Sua maestà Andy Warhol. Sua maestà Andy Warhol. No mamma, abbiamo parlato del tempo. Beh no, il tempo l'abbiamo, abbiamo dieci minuti. No, 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 no. Eh, Gabriele ha paura. Eh, Gabriele ha paura. Abbiamo dieci minuti. No, 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 no. Eh? No, 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 no. Eh? No, 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 no. Vabbè, intanto subito, sono tre minuti, ci abbiamo dieci minuti. Vabbè. Andiamo piano. Ci abbiamo dieci minuti. Ma scusa, ma sei entrato in gara ai tedeschi. Perché vuoi fallare? Allora, quanto è bello quel disegnino di Tire Nanzi, è veramente una cosa deliziosa. Allora, mi dice che è entrato in gara il tedeschi. Sì, ma non è che mi hanno offerto tre mila euro. Mi hanno offerto quanto? Settecento euro. Eh? Settecento euro per il tedeschi. Settecento euro per la prima. Chi mi offre di più per quest'opera preziosa? Questo è meraviglioso. Questo è tutto ferro e tela. Ferro è un totem primitivo, pazzesco, di Fabrizio tedeschi. E siamo a settecento euro. Ottocento per tedeschi. Ottocento per Elvira. Ottocento per Elvira. Forza, 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 forza. Replicate per quella raffinatissima opera di Fabrizio tedeschi. Ottocento per Elvira. Ottocento per la prima. Ottocento per la seconda. Gabri tedeschi ha ottocento. Assegniamo? Assegnato ad ottocento euro. E andiamo a leggere un'opera che è ad oro di Gualtiero Nativi. Siamo a tre cinquanta. Quanto, scusami? Trecentocinquanta. Trecentocinquanta euro per quel gioiello del settantasette. 30,5 per 24 di Gualtiero Nativi. Trecentocinquanta euro per la prima. Ma vi rendete conto? Dopo dite che mi arrabbio. Siamo talmente lontani da quelli che sono dei prezzi da mercante, da quelli che sono dei prezzi non al pubblico, ma da mercante, ma letteralmente da mercante. Un'opera del settantasette è un'opera del settantasette di questa qualità, di questo livello di Gualtiero Nativi. Siamo a tre cinquanta. Siamo a quattrocento. Non cambia molto. Siamo a quattrocento euro. Quattrocento euro per la prima. Quattrocento euro per la seconda. Quattro e cinquanta. Quattro e cinquanta per Davide. Quattro e cinquanta. sapete perché me la prendo? perché andando avanti di 50 euro in 50 euro sono senza speranza questa è un'opera che dovrebbe arrivare a 2000 2002 siamo a 4.50 5 5 500 euro 500 euro per la prima 500 euro per la seconda dai replicate c'è un margine 5.50 5.50 c'è un margine enorme è veramente una bella opera poi sono quelle da collezionista sono quelle da conoscitori sono quelle da veramente chissà chi segue 5.50 600 600 per la prima 600 per la seconda 600 euro posso assegnare a 600 euro veramente complimenti via ho ancora tre opere deliziose c'è quella quella timida presenza di Alessandro Gabbia indubbiamente affascinante quel piccolo disegno di Nino Tirinnanzi per il quale ho 200 euro ed è letteralmente una delizia guardate che ho pochi minuti tre minuti quindi dobbiamo essere molto veloci e poi ho una veduta del Salento straordinaria 50 per la domanda 50 per 70 di Michele Carpignano sul Michele Carpignano ho 400 euro sul Tirinnanzi ho 200 euro sull'Alessandro Gabbia ho 500 euro ditemi voi abbiamo tre minuti e mezzo quattro minuti scarsi quindi ve li presento tutti e tre in una sola battuta ditemi voi su quale opera volete proporre le vostre offerte proprio negli ultimi istanti 500 per Carpignano come? 500 per Carpignano 500 per il Carpignano 500 per il Carpignano 500 euro per la prima dai assegno tutti e tre allo stesso momento siamo a 500 euro per il Carpignano 200 euro per il Tirinnanzi Gabriele quanto siamo per il Gabbia? 400 400 euro per l'opera di Gabbia no no allora le ultime offerte di una serata straordinaria nella quale ve lo dico francamente guarda che delizia un disegno di Tirinnanzi di questa bellezza a 200 euro dai amici via quell'opera di Alessandro Gabbia meravigliosa quella veduta del Salento di Michele Carpignano che se vedete Rai 3 ogni giorno vedete le opere di Michele Carpignano che fanno sfondo alle scenografie di Rai 3 quotidianamente quotidianamente un'opera preziosa di Carpignano a 500 euro amici tocca a voi le ultime battute 2,50 per Tirinnanzi 500 per Carpignano dai veloci 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 quanto? 5,50 5,50 per Carpignano avete ancora un minuto e mezzo 5,50 per Carpignano 2,50 per Tirinnanzi che cosa? Gabbia è fermo a 400 euro poi faccio un'assegnazione unica tra un minuto 2,50 per il Tirinnanzi 5,50 per il Carpignano 600 per il Carpignano 600 per il Carpignano 2,50 per il Tirinnanzi 600 per il Carpignano 6,50 per il Carpignano 6,50 per il Carpignano abbiamo ancora 30 secondi 6,50 per il Carpignano 2,50 per il Tirinnanzi a giudico il tutto a giudico il tutto 1,2 e 3 a giudicato via amici è stata una serata particolare è stata una serata straordinaria ma straordinaria per voi perché letteralmente siete riusciti a prendere delle opere importanti a condizioni di prezzo letteralmente inesistenti veramente complimenti 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 grazie che ho contrariamente al solito io questa sera ho quasi tutti i collaboratori maschili c'è solo Elvira che dà lustro alla presenza femminile e poi ho Gabriele Davide Carmelo Federico quindi tutti i maschietti questa sera contrariamente alla consuetudine grazie a tutti i miei collaboratori grazie di cuore a voi e complimenti veramente per quello che vi siete aggiudicati perché mai come oggi avete vi siete proposti per degli acquisti letteralmente straordinari grazie ancora a voi tutti con tutto il cuore alla prossima grazie a tutti grazie a tutti